Il progetto è stato anche un progetto straordinario che vuole raccontare quali siano le alternative concrete, reali alla malavita, alla camorra. Il progetto è stato anche un progetto, reali alla malavita, reali alla malavita, reali alla malavita, reali alla malavita. Lui ha un giro in questo film di trasportarmi nella malavita. Se li sta cercando adesso, ci sono questi due qua? No, sono stati quei due a uccidere. Ah, è stato un omicizio, sono stati quei due. Cerco due ladri, sapete. Qua? Qua ci stanno solo ragazzi. E quelli ragazzi sono. Il film fondamentalmente racconta la storia di un'amicizia, un'amicizia tra due ragazzini che si ritrovano in mezzo alla strada a condurre un'esistenza dedita a piccoli furti, a piccoli escomotage per sbarcare il lunario. La sceneggiatura è molto ispirata. Lo sport è sempre una grande metafora della vita. Il pugilato in gran parte per questo ha sempre spesso interessato il cinema, la letteratura e l'arte in generale, perché è una metafora fin troppo leggibile della vita, della quantità anche di spirito di sacrificio, di disciplina, di autodisciplina che è necessario imporsi in qualche modo se uno vuole raggiungere dei risultati. Perché non dia, vieni qua, invece che fai lo scemo con quello? Vieni, è un bello cazzone. Abbiamo avuto la grandissima fortuna di trovare due straordinari ragazzini che potessero interpretare Clemente Russo da giovane e Carmine Recano come amico. In qualche modo i due ragazzini hanno lo stesso mood dei due adulti, quindi è stato interessante seguire il percorso di questi due ragazzi da quando hanno 16 anni fino a quando poi crescono la loro vita continua. Lui si diceva quando tu ti dà la battuta, io faccio qui. Ah, ok. Dai prima! Muove, dai prima! Allora... Di cinque, una terza. La mente russo non è mai stato in galera, quindi non è la mia vita. Prima vediamo come te la cave, sorri. Prima? Non ha senso. Prima vediamo come te la cave. Prima vediamo come te la cave. Questa è la palestra natale di tanti campioni. Quanto pesce? Una settantina? Da qui nasce il racconto di Saviano, quindi da qui nasce il film da tanca scatenato. Quanto pesce? Una settantina? Masquale! E poi tu scarichi. I primi incontri già si notava, questo ragazzo che avrebbe poi dato soddisfazione, perché da ragazzino, 14 anni, aveva un po' un girato tipico dei pulsi professionisti. Tiravo cazzotti, ma con la testa basta, senza pensare alla tecnica, specie quando mi nervosivo. Andammo a un campionato under 19, Clemente all'epoca aveva 17 anni, quindi regalava due anni ai suoi avversari. Ovviamente vinse e dissi, a questo momento ti chiamerò da tanca, perché ti sei piazzato al centrolinto come un bisondo, come un toro. Mi piace da tanca, mi piace da tanca, da quel momento e poi è diventato da tanca, un noto un po' tra tutti quanti, insomma. Il fatto di aver scelto un vero pugile a interpretare il protagonista del film è interessante perché abbiamo voluto giocare sul corpo più che sulla recitazione classica, il corpo diventa il paradigma per raccontare la vicenda di un uomo. Quando seppi che poi il protagonista, che è un reale protagonista, è un ruolo che farebbe tremare le vene e i polsi di qualunque attore consumato, era affidato a un pugile di grande qualità, ma che non aveva mai fatto l'attore, mi sono detto, una bella sfida per Giuseppe. A fianco alla foto di Lorenzo, c'è un articolo con te, perché nella storia Clemente Russo non esiste, quindi... La storia di questa amicizia si sviluppa per tutto il film, i due ragazzini crescono e insieme continuano la loro vicenda, sono legati indissolubilmente da due o tre fatti che scoprirete nel film. Rosario, il furbetto, il ragazzo della strada, Michele invece è il bonaccione, è la persona con principi e con i valori. Rosario è un ragazzo che ha come unico scopo, unico obiettivo, i soldi, arrivare, apparire. Qua ce la siamo, la uba, nel tutto, in modo che facciamo dire la cosa. Ed è affascinato appunto da quello che è il sistema camorristico, camorristico, fino a diventare poi imprenditore della camorra stessa, da più attività a palestre, a riciclare denaro comunque sporco. A domani come se posso lo gestisci tu? Anzi, parla di un buon salvatore, d'accordo? Salvatore, il personaggio che interpreto io, è un imprenditore, solo che qui da noi fare l'imprenditore significa forse in qualche caso anche occuparsi di malavita. La malavita oggi qui è completamente diversa, non bisogna immaginare più il camorrista come riconoscibile al primo sguardo. Salvatore non è riconoscibile al primo sguardo. Oggi invitata al suo matrimonio, al suo matrimonio, Natale Gallè. La sposa bellissima, stupenda. La sposa bellissima, stupenda, 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 stupenda. mattina con un figlio caccia fa... Poi facciamo una prova di movimento giusto per capire cosa succede. Si fa la casa che pensa che Briatore si farebbe o che Montezepolo si farebbe. Lui a quello vuole arrivare. Vuole arrivare... A lui piacciono quelli sono i suoi modelli di riferimento. Non sono, certo, i padrini della mafia degli anni Ottanta. Quando arrivano qua... quando arrivano qua si alza subito lui e saluta loro e poi c'è un avvicinamento al bolo quindi ora dobbiamo capire come funziona voglio vedermelo in macchina azione mi piace molto quando quando salvatore incontra clemente e gli dice tu sei stato in galera a santa maria ma tu sei stato a santa maria come santa maria è stato buono una meraviglia e dice che lo carcero non l'hanno fatto noi per forza si è trovata una meraviglia e tu cosa sei? allora portiamo con la soggettiva e azione ok che cosa sei stato a buvo l'aneiro? Uno cazzo tutto! Allora pronti? Azione! Sì! Era tutta questa fretta di vedermi la sua. Un po' confessato. Com'è andata l'appuntamento con Peppino? Buono. Sabatino è il maestro di box di... del nostro Michele. Senti, Rosa, tu che intenzioni hai veramente? Michele non è pronto ancora, non è un vero cucciolo. Ma si dà non lo pugni, perché prego? Si dà non lo pugni, ma non viene la tecnica. E poi c'è una sorta di debolezza più grave, che è quella di non riuscire, ma non è facile, a sottrarsi alla delinquenza. La delinquenza fa del suo sport il pretesto per un mercato clandestino, quello delle scommesse clandestine, eccetera. E a questo mercato Sabatino non solo non riesce ad opporsi lui, ma finisce per tirarci dentro anche il suo allievo. Azzietta. 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 Ma non ci potremmo commettere di far stronzolato. Se non lo può finire, non lo può finire. Capita buona. Ma vengo pure. E mi rifagge la chiaffa. Un, due, tre, quattro. Perché? Perché stavolta devi perdere. Dai, dai! E poi non puoi stendere la testa. Aspetti. Poi che ti ammazzi, è questo che vuoi! Le du lire! Un, due, tre, quattro. Si top este, won t peux penetrare. City! Ma non tava pasata qui sono state, non che si chiude. Ni me, poveri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. She tries to be comfortable for him but in a way it doesn't work because they belong to two different cultures, two different worlds. After the engine, he has already started to eat and you do the action with this. 111 B, 3 secondes. Boxing. That's it boxing. Skins. Schlager. Schlagerai. No, that's it boxing. Sascha fa pugilato clandestino e odia questa umanità che frequenta gli incontri. La gente accomunata da miserie, guerre, desolazione. Dopo qualche giorno porta Michele ad un match, guarda tutta quella gente che si picca a sangue per due lire e il commento naturale che gli viene è schlagenfleisch, beat meat, carne macelleria. Sono stati due veramente gli incontri dove gli atleti non erano dei pugili. Gli altri incontri che ho fatto sono stato messo di fronte sempre a pugili o dilettanti o professionisti. e abbiamo fatto sempre ed esclusivamente incontri, cioè erano dei match veri e propri. Ragazzi vi prego un ruoto di silenzio adesso. Grazie. Adesso è tecnica per la macchina, non mi serve reale, mantenete la forza, mantenete tutto perché dopo ci sarà da spingere. Vado, vado su, vado, 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 vado e vado giù e vado a terra qua. Come Manolo per i tagli addosso, facciamo entrare alla polizia e si soffano. I like to work with this very talented and interesting director Giuseppe Gagliardi. We understood each other. Unfortunately, we hadn't time to work to prepare this part. I jumped in this in his film. Devo ometere, che hai rabia e potenza nel destro. Mala tecnica. Caroline. Io mi chiamo Sasha Zagarias, faccio il ruolo di Caroline. È trasferita dalla Svezia in Germania. È lì che i nostri due ruoli si incontrano. Tra noi due c'è un legame forte. Oltre al pugilato che è per noi tutti e due, per Caroline e Michele è la loro passione, c'è anche forse sotto sotto anche una grande tenerezza. Nella parabola del film il ragazzino parte sedicenne e arriva ad essere uomo, uomo valoroso in Germania grazie agli insegnamenti di un grande maestro di box, Rade Serbecia, perché gli insegna davvero a stare al mondo prima che sul ring. 131, 14, la prima. È un tipo fuori da un'immagine di un allenatore di pugilato, fuma, non ha il fisico proprio così da pugile, però è un poeta, è un artista. E questo incontro tra loro due io l'ho trovato magico. Tra due emessi combatterai. C'è un torneo? No, c'è il torneo. Hai detto che non allenavi più a livello posizionistico. Difatti, combatterai allo stumbling. Ho pensato che sarà un film molto interessante perché è una storia half documentaria. Noi raccontiamo una storia legata alla Campania, legata a Caserta, a Marcianese in particolare, ma raccontiamo un po' la storia di tutto il sud d'Italia. Il percorso di Michele verso la salvezza è costellato naturalmente di una serie di ostacoli creati dalla realtà in cui vive. Il percorso di Michele verso la salvezza è costruita. Il percorso di Michele verso la salvezza è costruita.